Inaugurato un nuovo parco con area giochi in via Borgosesia, nel 13esimo municipio. Il logo l'ha disegnato Gennaro, uno degli alunni della scuola elementare dell'istituto comprensivo Bajocco 259. Insieme ai suoi compagni ha partecipato al concorso Il mio parco in un nome, in un'immagine, lanciato dall'istituto. Il premio l'hanno vinto tutti, uno spazio per poter giocare.